L'apertura del nostro notiziario ci porta a parlare di politica e nello specifico di elezioni regionali perché è stata ufficializzata la data delle prossime elezioni regionali. Gli abruzzesi si recheranno alle urne il prossimo 10 marzo per scegliere il governatore della regione Abruzzo e per rinnovare le cariche dei consiglieri regionali. A ufficializzare questa data sono stati il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Al momento sono in corso contatti con il governo per verificare la possibilità di estendere anche nel 2024 la deroga già concessa nel 2023 di poter votare anche nella giornata di lunedì. La prossima settimana il presidente della regione Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri si recheranno dal presidente della Corte d'Appello dell'Aquila Fabrizia Ida Franca Bandera per formalizzare la procedura così come previsto dallo statuto. E intanto è già partita la campagna elettorale e questa sera ad esempio alle 22.30 ci sarà un appuntamento importante sul Rete 8 con la trasmissione i fatti e le opinioni del direttore Carmine Perantuono che in studio con il direttore del quotidiano al centro Piero Anchino ospiterà il candidato presidente Luciano D'Amico sfidante dell'uscente Marco Marsilio.